Una battaglia infinita, eppure nelle ultime settimane è una battaglia che ha guadagnato numerosi riflettori, c'è grande attenzione anche perché i cittadini hanno potuto testare l'attenzione delle amministrazioni locali ma soprattutto i risultati rispetto ad una battaglia concreta. Pare che il tributo, questo iniquo, alla fine non si debba pagare. Andiamo con ordine però, in questo momento vi state battendo per una posizione, quella del commissario straordinario che giudicate totalmente legittimo. Sì, in effetti questa è una battaglia che stiamo portando avanti da un po' di tempo, è circa un anno e mezzo che abbiamo costituito la rete dei sindaci del lato 3. Inizialmente con molto scetticismo eravamo in 5-6 comuni, presso il comune di Rocco a Piemonte abbiamo costituito questo protocollo d'intesa, abbiamo fatto questo protocollo d'intesa. Chiaramente è una situazione molto ingarbugliata e molto difficile da gestire, poi man mano che siamo andati avanti con tutti i problemi che la Gori crea quotidianamente sui territori, ha fatto sì che altre amministrazioni si sono avvicinate alla rete dei sindaci che abbiamo creato. Chiaramente l'intento quale è della rete dei sindaci? È quello di prendere la maggioranza all'interno del lato 3 e chiedere la liquidazione della Gori. Tutto questo però oggi non è possibile perché anche se adesso siamo arrivati a 22-23 comuni, adesso non ricordo precisamente, però più o meno con le quote stiamo quasi alla maggioranza. Però c'è un problema, un problema che fine 2013, fine dell'anno scorso, la regione Campania ha nominato un commissario liquidatore del lato 3. Di conseguenza ha assautorato tutti i poteri all'assemblea dei sindaci, quindi noi attualmente non possiamo andare in assemblea ed eventualmente chiedere la liquidazione della Gori. A questo punto avete chiesto però l'intervento di un ente sovraordinato rispetto alla regione, siete andati direttamente al ministero? Sì, nell'ultima riunione che abbiamo fatto al comune di Castellammare, credo 15 giorni fa, abbiamo firmato un documento, tutti i componenti della rete dei sindaci, quindi tutte le varie amministrazioni, dove abbiamo chiesto l'intervento del governo, perché in effetti il commissario è stato nominato per durare in carica sei mesi. Siamo ormai quasi a due anni e il commissario sta ancora là. C'è da dire anche un'altra cosa, che il commissario si doveva occupare soltanto della fase ordinaria, non della fase straordinaria del lato 3. però ha pensato bene, dopo un mese dalla sua nomina ha aumentato le bollette per il 2012-2013 del circa il 39% e successivamente dopo un anno, nel 2014, ha aumentato per il bienno 2014-2015 del 44% fino ad arrivare a un 68% di aumento. Quindi questa sicuramente non è l'ordinarietà del commissario, ma questa è una fase straordinaria che compete sostanzialmente ai sindaci. E quindi anche per questo noi abbiamo fatto, ci sono dei ricorsi altarpendenti, abbiamo chiesto ultimamente intervento del governo affinché fondamentalmente blocchi l'azione del commissario e ordina alla regione di creare un altro ente, di ordinare il servizio di integrazione in campagna. Perché ormai stiamo veramente al ridicolo. E ad ultimo sono arrivati, anzi forse questa è stata, dobbiamo anche ringraziare la Gori, in un certo certo virgolette, perché che hanno fatto? Hanno pensato bene di mandare delle bollette chiedendo a tutti i cittadini del lato 3, quindi stiamo parlando di 76 comuni, dei recuperi di partite pregresse ante il 2012. Questa è la dicitura che esce sulle bollette. Su questo avete preparato modelli, reclami, abbiamo dato conto dell'incontro con i cittadini, su questi reclami e quali sono state già le risposte e se sono arrivate? Allora, attualmente c'è un doppio canale su queste bollette che sono arrivate, che è quello della rete dei sindaci che noi stiamo sostanzialmente invitando i cittadini a non pagare, abbiamo insieme alle associazioni di consumatori preparato dei reclami da inviare alla Gori in modo da sospendere il pagamento. Dopodiché chiaramente sui territori ci sono state una serie di sollevamenti da parte dei cittadini e quindi tutti i comuni, indipendentemente che facevano parte o meno della rete dei sindaci, si sono dovuti muovere per cercare di dare risposta ai cittadini. E chiaramente hanno chiesto, noi della rete dei sindaci, perlomeno io personalmente non ho partecipato, delle riunioni al comune di Scafati, dove è stato chiesto un incontro con il commissario straordinario del lato rei, il senatore Sarro, il quale ha dato una sospensione di queste bollette, una sospensione di 30 giorni. Dopodiché io personalmente su questa cosa non sono assolutamente d'accordo, l'ho anche ribadito nella riunione della rete dei sindaci a Castellammare, in quanto noi non possiamo chiedere un incontro al senatore Sarro, che fondamentalmente si sono dei ricorsi al TAR che abbiamo presentato anche noi come comune di Fisciano, dove diciamo che non riconosciamo, è una sorta di legittimità che andremo a dare al commissario e di conseguenza non abbiamo partecipato. Fondamentalmente c'è stata questa sospensione di 30 giorni, però c'è da dire anche un'altra cosa, la Gori, queste somme che sta chiedendo ai cittadini pari a 122 milioni di euro, nei bilanci 2008, 2009 e 2010, li ha inseriti e se queste somme non fossero state inserite all'epoca, cioè la Gori attualmente non esisteva più perché doveva essere messa in liberazione perché il capitale sociale andava al di sotto dello zero, quindi questa è la nostra posizione e su questo dovremo battagli fino all'ultimo, perché il nostro obiettivo è quello di mettere in liquidazione la Gori in modo tale che il servizio idrico deve essere ridato ai comuni. Abbiamo fatto un referendum e questo referendum perlomeno dovrebbe essere rispettato, al momento non lo è.